Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel sesto episodio di The Secret of Monkey Island. In questo episodio andremo a esplorare Monkey Island, nella quale siamo sbarcati, diciamo, in un modo un attimo particolare, nello scorso episodio. Vi lascio quindi al gameplay, mi raccomando, se non avete visto gli scorsi episodi, andate a recuperare prima di vedere questo gameplay. Va bene? Ci vediamo quindi nel videogioco. Bene ragazzi, allora, siamo arrivati quindi proprio su Monkey Island, la città, l'isola che dà il nome proprio al videogioco e all'intera serie di Monkey Island. Allora, vediamo innanzitutto cosa abbiamo qua. Guarda. Ne ho un po'. Ok, parla di cannibali e mi sa che o in questo o nel prossimo episodio capiremo un po' chi sono. Allora, ma vediamo che qua c'è una banana. Proviamo a prenderla. Ok, abbiamo preso questa banana. Ottimo. Direi a questo punto di addentrarci, ma questo qua, scusate un attimo, ma scusate un secondo prima di addentrarci nella foresta. Mmm, those are some luscious looking bananas. Ok, no, è semplicemente un albero. Allora, addentriamoci quindi nella foresta. Vediamo un po'. Ah, cioè, guardate che isola enorme, veramente. Qua c'è una scimmia. Cos'è che c'è qua? Cioè, come fa una a orientarsi qua dentro? È impossibile? No ragazzi, veramente è difficilissimo. Cioè, come cavolo deve fare una persona a orientarsi? Proviamo ad andare di qua un attimo, no. Vediamo un po' se si arriva da qualche parte. Ah, ok. Sono anche gli uccelli che volano in primo piano. Ah, l'ho visto per un attimo. Ah, ecco qua. Oh, ok. Ma questa isola è veramente enorme. Proviamo ad andare qua un attimo nel forte. Come arrivati quindi in questo forte, come vediamo l'isola veramente immensa, che si vede qua dal panorama. Vediamo un attimo di prendere questa fune. Ok. E prendiamo anche il cannocchiale. Potrebbe tornare utile. Vediamo invece il cannone. Ok, va bene. Ma vediamo un attimo questo cannocchiale. No, specchietto retrovisore di un'auto. Allora, ma proviamo ad aprirlo? Avremo in questo modo recuperato quindi una lente. Va benissimo. Ops. Va benissimo. Ok. Altra cosa che qua possiamo fare è la seguente. Proviamo a spingere il cannone. Ok. E lo spi... Chi è? Ah, è lui. Ok, dove è la mia spi-glascia? Oh, perfetto. Mi sono andato 5 minuti e qualcuno arriva in qui e riempisce un'auto all'interno all'interno. Naturalmente non credo che tu avevi qualcosa da fare con questo. Mi sono sicuro che è solo una coincidenza che tu arrivi in qui per provare a spingere il proprio dopo che un'interno di un'interno di un'interno di un'interno di un'interno di un'interno di un'interno. Ho visto andassi una scimmia qui da averlo fatto lui. I saw a monkey leaving here. He must have done it. Don't be a jerk. Ok. Ok, lui era, abbiamo scoperto nello scorso episodio, Toothrod che era uno delle due persone che si è rimbarcato sulla nave che poi abbiamo acquistato. noi ed aveva raggiunto Monkey Island, appunto un'altra persona che era il capitano della nave che non lo sopportava in sostanza. Diceva che non si lavava e tutto quanto. Diceva proprio che tramite la ricetta, tramite la quale poi anche noi siamo arrivati in Monkey Island, era svenuto e poi è riuscito a arrivare sull'isola. E un attimo se possiamo prendere la pavere da sparo. Ok, la pavere da sparo ci piace proprio, continuiamo a prenderla. E la palla di cannone invece? Ah, l'ha presa in scioltezza anche se peserà un quintale. Va bene. E cos'è? Una palla da bullying? Che cazzo? Va bene, perfetto. Allora direi che qui abbiamo finito le cose da fare. Torniamo nella mappa enorme di questo posto. Ok, poi dice, non è che sei stato in quel luogo lì e se ti sposti ti lascia qualche segnale. No, uno deve ricordarsi che è quasi un luogo in cui andare. Allora, un altro posto interessante, un po' camminando ci arriviamo. Oh, eccola qua, è la biforcazione del fiume. Oh, è sicuro che c'è qui c'è l'hovo. Non sono un geologista, ma a rispondere a queste fratture concoitale? Spero che questo è un pezzo di flint. Hmm, va bene. Sì, guardate questa notte mentre ci sono. Si è scritto sulla lettera. A la pirata di Lachucca. Dobbiamo chiedere a te una volta di curtirare le attività di attività in la zona di Monkehead. La gente decente sta cercando di dormire. Buongiorno manteniamo il livello. Le cani di Monkei Island. P.S. Abbiamo visto che tu prendi quella donna con la scarpe là. Ah. Chissà chi è. Va bene. Proviamo a fare una cosa. Allora, prendiamo. La polvere. Prendiamo la polvere. E vediamo un attimo. Eccola qua. Prendiamo la polvere e la usiamo con la dita. Vediamo un attimo. Ok. Ora, prendiamo la lente. Usiamo invece la lente con... Vediamo un attimo il sole prima, scusate. E usiamo la lente con il sole. Vediamo cosa succede. Ok, abbiamo distrutto la diga. Tra l'altro, se vedete anche online, ci sono diversi modi per distruggere la diga. Ma questo è uno. Però, insomma, è abbastanza semplice e immediato. Ok, abbiamo distrutto quindi qua la diga e abbiamo creato questo ruscello d'acqua. Allora, a questo punto saliamo qui sopra. Vediamo un attimo su queste appiglie che cosa c'è. Un'altra nota che è. Continuo. Vediamo un po'. Sarà di nuovo. Ah. Ah. Invece questa è di Toothrot, ok. Ma quasi lasciano le note così in mezzo alla strada e noi tra l'altro le togliamo, quindi... Chissà se le leggeranno mai. Ma chissà quante due, ok. Proviamo a tirare questa arte primitiva un paio di volte, va. Vediamo cosa succede. Mettiamola in questa posizione qua, poi capiremo il perché. Bene. Allora, però aspetta perché io l'ho spinto una volta e l'ho tirato due... Perché bisogna tirarle due volte, quindi... Ritiriamola un'altra volta. Poi capiremo il perché. Ok. Andiamo a metterla così. Poi capiremo se ho fatto bene o no. Allora, proseguiamo sopra. Ah, guardate qua che meraviglia di panorama. Ok. Ah, di nuovo? Che vuole adesso? Ah. Ah. I never get tired of this view. Even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island. me l'hai vista, non mi importa più tanto. Lascia che mi piace di spiace. Vabbè no. Sì. È una bella vista. Sì. È una bella vista. Sì. Sì. Che cosa sembra? Il guardatore? Ha! Senti a questo ragazzo. Il mio figlio è un tipo di castiglio. Ha! Che devo che sia questo deserto? Tu chi sei? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Che vuol dire? Con chi stai parlando? 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 Mi chiamo Tufrotto. Hermann Tufrotto. Io vivo qui. No, non proprio qui. Nel forno del volcano. Tu stai parlando? Tu pensi che resta qui per la mia salute? Oh! Poi! Ok. Va bene. Sempre lui che ci insegue mentre giriamo l'isola. Va bene. Bene. A questo punto, ragazzi, prima di continuare, volevo farvi vedere anche qui un easter egg che c'è. Abbiamo visto un modo che c'è di morire all'interno del gioco. Ecco, qui c'è un altro modo per morire. Però questo, se il primo era una morte in sostanza definitiva, perché io non sono riuscito poi a ricominciare a giocare al gioco. Questa era una morte da cui ci si poteva poi riprendere, diciamo. Quindi si poteva continuare il gioco a questo punto. Però, a scanso di equivoci, io faccio un bel esci, salva gioco e me lo salvo qua. Tanto per non sbagliare, perché non vorrei che questi fanno dei scherzi. Però dovrebbe essere una morte da cui comunque si può continuare poi il gioco comunque. Come si fa a morire, bisogna andare di qua. Oh no, è davvero toppato questa volta. Dovrei cominciare da capo. Speriamo che tu abbia salvato il gioco. Però lui è tornato su e dice albero di gomma. Ok, quindi da questa morte si può tornare. Ok, e non bisogna ricominciare il gioco. Cioè veramente dall'altra morte, lì dove dopo dieci minuti annegavamo, lì fine. La bisognava proprio ricominciare oppure riprendere dal gioco che si era salvato. Questa chicca del gioco, in realtà ragazzi, è un po' un ironizzare da parte di LucasArts sui giochi del concorrente Sierra dell'epoca. Cosa succedeva nei giochi Sierra? Succedeva che, diciamo, se la persona che giocava il gioco era troppo curiosa, il gioco è come se ti punisse perché moriva in continuazione e non c'era modo di poter continuare il gioco da quel punto lì, a meno che non si era salvato il gioco. Però se una persona si era dimenticata di salvarlo, doveva ricominciare il gioco e rendeva quindi molto frustrante il gameplay. E quindi proprio per questo motivo LucasArts ha voluto ironizzare su questo aspetto, sottolineando il fatto che nei giochi LucasArts innanzitutto non si punisce il giocatore per la sua curiosità e poi è molto difficile morire definitivamente. Allora, quindi qua ci sono mucche di rocce. Proviamo a fare una cosa. Allora, proviamo a spingere questo. Vediamo cosa accade. Va bene, ok, abbiamo beccato proprio l'albero di banane lì e poi andremo a vedere cosa abbiamo combinato. Però, se così abbiamo beccato l'albero di banane, si miriamo un pochino più di qua, vediamo se possiamo fare un'altra cosa. Allora, andiamo un attimo, andiamo giù. Ah, un'altra volta, che è? Ma è lo stesso o un altro questo? Mr. Toothrot. Please remove this dangerous object. Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above and nearly sank a passing ship. Ah. The cannibals. Va bene, continuiamo a collezionare queste note. Proviamo a fare una cosa, va, spingi l'arte primitiva di U. No, non era spingi però. No, scusate, era dall'altra parte, quindi aspetta. Ok, proviamo a lanciare una pietra così. Vediamo cosa accade. Allora. Ok, proviamo a spingela, vediamo un po' se succede qualcos'altro. Ah, non l'ho beccata. Ci siamo andati vicino però nella nostra nave. Proviamo allora a spingerla un pochino più in qua. Vediamo cosa accade. Voglio vedere cosa accade per vedere un altro easter egg. Questo che non è necessario, è per il gioco, però è divertente. Perché poi, tra l'altro, in Monkey Island 4, credo ci sia un riferimento a questa cosa. Poi, vabbè, poi quando la giocheremo capiremo. Provo un attimo a ritirarla giù, vediamo un po' cosa accade adesso. Vai. Ok. E un po'. Oh, cavolo. Ok, chissà le persone sopra che fino hanno fatto la nostra ciurma fantastica. Va bene, ma scusate, ma una cosa sola. Ma ci vado di qua di nuovo? Non ci va più? Ok, non mi chiesce. Ok, si può morire solo una volta. Ok. Va bene. Allora, a questo punto torniamo sulla nostra mappa infinita e cerchiamo di orientarci verso un altro luogo. Vogliamo andare qua al laghetto. Vediamo cosa c'è. Ok. Un'altra nota. Ogni due. Dovunque andiamo c'è una nota. Vediamo ancora cosa dice. Questa è la canna di Monke Island Cannibals. Non mi piace di farciare in fronte del Monke Island, che diventa come la mia casa e base di base di operazioni. Ma potete per favore di farciare di lasciare le sacrifici messi sulle a mia porsche? E, per favore di non entrare il Monke Head. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. Ok. Ok, mi piace di scambio il messaggio. Va dire, ah, non, ecco qua. Questo è un vecchio amico di mio, l'unico che ho avuto qui qui. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. Eh, eh, cosa è successo? G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. G.P. LeChuck. Mmm, è un po' strano eh. Sei l'unico qui sull'isola. Io sono un garb. Beh, non sono, ma scusa ma ho degli affari per senta privadare. Eh, facciamo se hai unico. Sei l'unico? Tu sei l'unico qui sull'isola? Sono l'unico civile cadene sull'isola. C amazing di presi da mingevi-tro reorgani. Beh,оссiegoverni scrivere monitordi하게znanti ovvero. Però non lo parlo. Sono cannibali ma suoniamo Notי khout. Io li avevo ingegnatoanti a successo умice. Ok. Ok Sì Sì Ehm Quindi ok quindi tutto quello che ci aveva detto Stan sulla nave era veramente vero ok Bene Io sono Guybrush, sono qui per salvare qualcuno Quindi qui adesso sono Sì 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 Mi sono stato un po' più prima. Il libro di più di più di più di questo libro di biblioteca è molto grande. Andiamo! Non è proprio quello che ho detto. Ho scoputo qui in procura di il governo di Meile, che è stato chiamato da una ghost. Oh, bene, non mi rispia. Mi piace qui. La fai sulla mia cabeça, il vento a mia occhi, i bambini sulla mia pietra. Ehm, potremmo potrei prenderti la volta, ma ho bisogno di riscogliare il governo prima. Penso che stia a quella giovane, sotto l'interno. Oh, ok! Hai venduto qualcosa ai cannibali? Ho venduto la mia banana picker a loro, e non l'avevano mai tornare. Come collaterali, mi hanno dato questo enorme cappone. La sua piazza, si apre il monkehead, vedi? Non è come se devo andare in monkehead, ma se vogliono tornare, ho bisogno di prendere la mia picker prima. È una cosa di orgogliere, sai? Ok, mi sa che ci tornerà utile questo coltonfiocco gigante. Che succede con le tante? Che tante? Va bene? Mi sa che dobbiamo andarlo a recuperare dai cannibali, ok. Scusami, ho qualche business pressionante per attendere. Sì, me anche! Che cazzo dico! Ah, meglio rimanere qua, quindi? Vabbè, non se ne va più. Ma guardiamo un attimo questo, che è, ecco, l'uomo dall'aspetto malsano è proprio l'autore del diario che abbiamo letto sulla nostra nave. Quindi era la sua nave, lui era il capitano della nave originario. No. Va bene, proviamo a prendere questa fune. Ok. Chissà cosa cavolo gli è successo, tra l'altro. Qua sembra che si sia suicidato, comunque. Cioè, forse non ne poteva più di stare con quell'altro. E l'ha fatta finita così, non lo so. Va bene. Qua direi che non c'è nient'altro da vedere. Torniamo sulla mappa e andiamo verso il crepaccio qui. Vediamo un po' cosa c'è. Ah! Vabbè, questa qui è dall'alto. Ah, ecco. Addirittura vista dall'alto da qua. Ah, qui vediamo che ci sono dei remi, tra l'altro. E qua c'è un ceppo resistente. Ok. Vediamo un attimo se le corde... Quindi abbiamo due corde, perché le abbiamo recuperate. Vediamo se queste due corde ci possono essere utili per raggiungere i remi. Ok. Ok. No, la ropa non è troppo lunga per raggiungere il camion fuori dal pezzo. Mh. Ho provato con questo ramo. Ok. Prima comunque il ramo. Ok. Ha messo la corda sul ramo. Ok. Quindi in questo modo possiamo raggiungere il primo pezzo. Ottimo. E a questo punto possiamo usare l'altra corda col ceppo resistente, che è sempre una garanzia. Oh! In questo modo raggiungiamo la parte sotto. Bene. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah! Dei remi. Quindi l'abbiamo presi. Ok. I due remi saranno molto utili perché, non so se vi ricordate, sulla spiaggia c'era una barca che appunto non potevamo usare perché non c'erano i remi. Adesso non ve l'ho fatto vedere però. Se torniamo qui... Allora, vediamo innanzitutto che avendo buttato addosso all'albero quella roccia, sono cascate due banane che prendiamo. Ok. Ok. E poi, se guardiamo la barca... Ah! Avete capito? Quindi questa qui è la scialuppa, probabilmente con la quale i due nostri naufraghi, uno dei quali è deceduto, l'abbiamo visto prima, sono arrivati qua. Ok. A questo punto direi di usare i remi con la barca. Bravo, vai! Ok. Bene, con la barchetta possiamo dirigerci in questa parte dell'isola. Ok. Ok, siamo arrivati qui, quindi a uno spiaggia. Ma vediamo qua cos'è, cos'è? Il messaggino Bottle, che è? Cosa è? Ah, cos'è? Ok. 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 Bene. Ma la botti... Eccolo qua. E' un peccato che l'abbiamo affondata, vabbè. Mi ha preso un taglio di nome Stink. su un uomo i namenti Stan Stan di Stan Jewish Ships su Mele Island? scusami I've got some pressing business to attend to yes me too tra l'altro to stu tizio qu'è l'unico che sa e' l'unico che sa che esistiamo anche noi parla con noi bene, a questo punto direi andiamo qui verso la giungla vediamo un po' che cosa troviamo ok, qua ci sono gli abolitori vediamo qua nella radura che cosa c'è private property abbiamo visto quindi all'inizio che Lechak risiede proprio qui dentro e quindi lì dentro probabilmente troveremo anche la nostra Elen ma si te esplico? si vediamola un po', ah eccola qua ah no, è l'assillo però ah ma ci segue dovunque questo va bene guardiamo un po' la scimmia qua la testa di scimmia ok e va bene il totem ma tutti si chiamano più o meno come Tripwood tutto quanto, tutti simili come cose vabbè comunque allora qui abbiamo visto che c'è una fantastica la fantastica testa di scimmia torniamo però nella foresta perché dobbiamo andare a trovare alcuni amici che mi sa che hanno una cosa che ci serve per entrare allora a questo punto riprendiamo la nostra barchettina ok oh eccoci qua vediamo un attimo che qua c'è un villager aspetta, vediamo qua sulla spiaggia no, eccoci qua beh, però non si può più dai vediamo sta cosa noi proprio quella cerchiamo ok noi vogliamo proprio la chiave per entrare lì dentro allora addentriamoci qua e andiamo al villaggio vediamo un po' questi cannibali che tipi sono mmm interessante vediamo un po' mmm hanno un bel villaggetto qui vediamo un attimo qua ah visto che abbiamo già parecchie banane noi ne prendiamo ancora da qua prendiamo un po' proviamo a sbignarcela vediamo un po' ah ecco lì qua è un po' che hai bisogno di dire per te stesso eh non mangiare devi non pire troppo senti per dire di cosa direi riutilizziamo ciò che ci aveva detto Otis vicino alla cella guarda dietro un po' trefondito hey pensi veramente che siamo così stupi? non ci sono cascati non ci sono E' vero? Ah Che cazzo vediamo? La banana? Fai schizzi nosi No Olè Bene Ci hanno rinchiuso quindi qua dentro Altro memo Vediamo un po' Cannibals I'm not giving you bloodsuckers your key to the monkey head until you return my banana picker Ht Tutta rotta sempre lui Però eccolo qua Prendiamo da sto punto vediamo un po' Ottimo A questo punto l'abbiamo preso e adesso dobbiamo vedere se riusciamo a scappare da qua Però Se riusciamo a scappare possiamo ridare la tooltrot E farci dare in questo modo la chiave per poter entrare nella testa dei scimi Vediamo un po' Questo che cos'è? Vabbè un tesco normale E' un cute little skull Vabbè Questo? I think that's how I'll end up if I don't get out of here soon Giusto No thanks They still got some meat on them E questo neanche no? Ah no questo lo prende Avevo preso un osso Benissimo Ma vediamo qua che c'è una tavola allentata Proviamo a prenderla Ah buco Posso andare a prenderla in questa tavola ma non penso che questa banana piccola sia bene Ma cazzo Mannaggia Oh ce lo fa lasciare Arredizione Vabbè Cavolo Eheheh Non è così facile Ok And no I'm not getting squeamish I'd love to eat the guy So let's do it But think of your arteries We are cannibals for crying out loud Yeah But cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else Allora qui altra easter egg fantastica veramente la devo far vedere Praticamente Se noi Andiamo qui Vedete ora ci sono queste due Questi due pezzi di legno che sbarrano in tutto Se noi Proviamo ad uscire vediamo un po' Ci sono loro che ci ritrovano No? 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 Vedremo che la scimmietta inizierà a seguirci. Proviamo ad andare di qua verso la zona di sboscata qui e proviamo ad andare qua sulla radura. Eccola, quindi ci ha seguito, ottimo. Questo potrebbe essere molto utile perché, ecco, qui abbiamo la testa di, la grossa testa di scimmia in cui dentro sappiamo che c'è le ciocche. Proviamo a tirare il naso. Ok, la scimmietta ci verrà in aiuto e rimarrà qua appesa e quindi noi potremo andare oltre. Bene, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Oh, siamo arrivati qua dove c'è la testa di scimmia e vediamo qui tra l'altro che abbiamo degli idoli abbastanza simpatici, tra cui questo che è l'idolo a forma del personaggio di The Day of the Tentacle, che è un'altra avventura grafica che magari vedremo qua sul canale, veramente un altro capolavoro della LucasArts. Proviamo. Vabbè, proviamo a prendere questo piccolino, allora. Incapace. Ok. Qui, ovviamente, abbiamo l'orecchio grosso e quando abbiamo poi il contofioc gigante da rinferci dentro, potremo poi entrare dentro la testa di scimmia e quindi raggiungere il pirata Lechak e quindi anche liberare magari la nostra governatrice. A questo punto, con l'idolo insignificante che abbiamo preso, possiamo tornare dai cannibali e proveremo a darglielo. Vediamo cosa succede. Scusate ragazzi, prima di andare dai cannibali, sono arrivato, circonnavigando dall'altra parte la mappa, su quest'altra spiaggia. Vediamo l'eneso bilettino. Ah. Ok, gli fregano tutto sti poveri cannibali. Ok, eccoci tornati dai nostri amici cannibali. Allora, per riparlarci, come sempre, dobbiamo andare di qua, vediamo il sistema, il nuovo sistema di sicurezza che hanno implementato e torniamo di là. Bene, eccole qua. Ok, vediamo se a questo punto l'idolo mi piace. Ok, wow, questo è impressionante. Lemonhead, guardatevi un po' di questo. Oh, è bello. E dice fatto da Lemonhead, proprio come uno di mine. Dobbiamo prendere questo al grande monkele. Sì, io concordo. Siamo molto gratuati a te per questo buono gift. If there's anything you need on Monkey Island, just come see us. Va bene. Ok. A questo punto, in teoria, eccolo, avranno aperto proprio la loro porta. E quindi, aprendo la porta, potremo prendere il nostro raccogli banane. Oh, eccolo qua, perfetto. Ma, tanto possiamo uscire anche dal buco. Un po'. I think I can use the door now. In effetti. Usciamo dalla porta, normalmente. e a questo punto, con il raccogli banane, andiamo... Allora, prendiamo un po'. Dai. Il raccogli banane. Ah, questo qua va. Ottimo, ragazzi. a questo punto, eccolo qua. Abbiamo la chiave per la testa di scimmia, il cotton fioc gigante, per poterci entrare. Ottimo. Bene, ragazzi, abbiamo conquistato quindi la nostra chiave per poter entrare all'interno della testa di scimmia nella quale troveremo così sembra le ciac finalmente. Non mi resta a questo punto che rimandarvi al prossimo episodio in cui appunto entreremo nella testa di scimmia e vedremo che cosa c'è all'interno. Mi raccomando, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.